Sapevate che sul set di Gli Anelli del Potere c'era una psicologa? Era lì per aiutare gli attori a gestire la reazione negativa del pubblico al cast inclusivo. Ismael Cruz-Cordova ha rivelato che sopportare il razzismo è stato molto difficile. Hanno acchierato il suo telefono e hanno provato anche con i conti bancari. Gli arrivavano cose a casa, minacce di morte, scrivevano ai suoi amici e hanno persino trovato il suo indirizzo di casa. Ma ha dichiarato che la presenza della psicologa sul set lo ha aiutato molto. Seguiteci per altri contenuti su FilmeserTV.